mamma hai 5 euro ma quanto tempo è passato dall'ultima volta che ti sei lavata i denti aspetta ieri oggi ti porto dal dentista ma come devo lavare i denti non li lavo da una settimana chi hai ma non la senti cosa le stanno facendo ah quello che faranno a te no dai finiscila non è vero la signorina valentina valentina c'è una valentina dove valentina e cercano una valentina valentina non c'è mi scusi è lei è mia figlia valentina muoviti ok guardo eccomi allora valentina apri la bocca cosa devo fare vedo che i tuoi denti non sono in buone condizioni diamo una controllata no non voglio valentina valentina ferma fermati non riesco a controllare valentina si non sto facendo niente sto controllando ah si bello avevo capito fortunatamente fortunatamente non c'è niente però mi raccomando lava questi denti eh l'attrezzo hai visto è perché li lavo sempre per quello che non c'è niente allora com'è andata tutto a posto non c'è niente peccato che stress mai più la dentista mai più non c'è niente